Buon poveriggio a tutti, grazie di essere qui, ci sono sette talk in contemporanea in questo momento, quindi c'è una grande competizione. Io mi chiamo Andrea Nelson Mauro, faccio parte di Data Ninja, che è un team di data journalism, un team data driven, ci sono tantissime competenze del nostro team e abbiamo organizzato nel corso di questo festival del giornalismo una serie di momenti per cercare di condividere le nostre competenze. Chi è già stato qui ieri e l'altro ieri, sempre a questo orario post-prandium, ha già sentito il mio peppone, diciamo così. Il primo giorno ci siamo occupati di raccolta, pulitura, analisi dei dati, il secondo giorno, ieri ci siamo occupati di geodati, oggi ci occupiamo di fonti di dati, insieme a questi due signori occhialuti che adesso vi presento, e domani ci sarà un talk insieme anche a Federico Bataloni, del gruppo Repubblica d'Espresso, Andrew De Vigal, insomma parleremo di solutions for constructive journalism, e domenica ci sarà invece un altro workshop dedicato al tema dell'analisi dei dati social con Donata Columbro che si occupa diciamo anche di impatto dei dati social. Oggi ci occupiamo prevalentemente di questi due temi che io indico anche se non si vedono sullo schermo, ma adesso magicamente il mio dito potentissimo ha fatto cambiare la vista, dalle fonti statistiche, dalle API, e qui al tavolo ci sono Carlo Romagnoli che è un desk researcher, da 15 anni si occupa di ricerca di base, e questo è il motivo della sua calvizie, mentre Alessio Scimarelli che è un... lavorato in fisica diciamo così, si occupa invece più della parte tecnologica delle fonti dei dati. Qual è il senso di questo talk misto fatto così? Il senso è che diciamo per tanti anni raccogliere e analizzare i dati è stato fatto in un certo modo, e quindi è interessantissimo vedere come è cambiata la professione di Carlo che lavorava 15 anni fa, 13 anni fa è un rispes, quindi pensate quanto è vecchio, come è cambiato il suo modo di lavorare in questi anni e poi come il modo di lavorare, diciamo, gli strumenti tecnologici possono aiutare a estrarre i dati e a lavorarci per attività di analisi e approfondimento di visualizzazioni. Il workshop dura fino alle 15.30, finiremo 5 minuti prima per dare spazio, per dare la possibilità insomma di cambiare con il successivo workshop, quindi non ci sarà una fase di domande alla fine, c'è però la possibilità, anzi vi chiedo di farlo, di interromperli e fare domande, se sono poco chiari, ci sono cose che vengono fuori un po' male, quindi cercando di rendere il tutto il più interattivo possibile. Grazie. Benvenuti, ha detto molto Andrea, lo ringrazio. Giusto un attimo un'introduzione su in realtà cosa è data ninja e cosa ha fatto, e quindi cosa facciamo anche per vivere, oltre a essere qui al Festival del Giornalismo di Perugia, è un network europeo di data giornalisti, l'ho messa un po' all'italiana, e potete trovare tutte le informazioni su di noi e sul nostro lavoro, sui vari siti del nostro network, da data ninja.it che è il blog ufficiale, abbiamo una school, quindi un sito pensato per le learning, dove mettiamo tutti i nostri materiali di tipo formativo, poi ce n'è una invece, una collezione di blog dedicati alle inchieste che facciamo, noi ogni inchiesta diciamo di una certa dimensione, abbiamo anche un nostro spazio che gestiamo, autogestito, per raccontare anche il retroscena delle nostre inchieste, e poi abbiamo una newsletter mensile a cui vi potete abbonare. Le nostre inchieste principali le ho messe più o meno nell'ordine cronologico inverso, quindi dalla più recente alla più antica, e Confiscati Bene, quindi Bene Confiscate la Mafia, Bolivia's Water War, quindi questione di guerra dell'acqua in Bolivia, Migrants Files invece sui migranti, eccetera. Come vedete il giornalismo non è legato a un tema, ma è più un metodo. E qui potete trovare, torno un attimo indietro perché all'indirizzo che vedete lì a destra sotto il Ninja B, dtnj.it, ijf16-fonti-api, trovate queste slide già online pubbliche, quindi potete seguire se avete aggeggi vari per connettervi a internet tutti i link. Come ho detto la Data Ninja School, passiamo da Data Journalism, con un corso sull'introduzione al Data Journalism, a dei corsi un po' più tech, in particolare modo che puntano alla visualizzazione dei dati, quindi Data Visualization, e poi l'uso dei social media come fonte di dati, eccetera. Lo dico anche perché in parte toccheremo anche questi argomenti oggi. Vi lascio a Carlo per le fonti. Sì, allora, come ha anticipato Andrea, io faccio, non sono un giornalista, io faccio ricerca, la faccio da una quindicina d'anni, e quindi sostanzialmente trascorro le mie giornate cercando, elaborando e soprattutto valorizzando quelle che sono le fonti informative presenti sul web oppure offline, a livello istituzionale o pare istituzionale o privato, a livello locale, nazionale, internazionale. Cosa succede? Che quello con cui ho a che fare, quindi giornalmente, è un universo sostanzialmente di fonti informative, ed è un universo che, come tutti gli universi, tende ad evolversi. Più che di evoluzione, qui parlo proprio di una rivoluzione, se vogliamo, nel senso che io ho vissuto in qualche modo quelli che sono stati gli ultimi singulti della preistoria, e una preistoria nella quale comunque l'accesso alle fonti informative era un accesso riservato esclusivamente a un determinato target di persone che erano poi ricercatori, particolarmente avvezzi a quelli che erano i rapporti con tutto il mondo della pubblica amministrazione, che avevano un accesso facilitato in quanto ricercatori istituzionalmente rappresentati, nel caso mio specifico dall'Eurispes, ma ovviamente questo valeva anche per molti altri istituti di ricerca che andavano in circolazione a quel tempo. Era un mondo nel quale lavoravi prevalentemente con documenti cartacei, aveva una scarsa accessibilità perché era comunque un'accessibilità sostanzialmente veicolata da rapporti interpersonali con i referenti dei dipartimenti statistici delle varie istituzioni e quindi aveva a che fare con la burocrazia. Questo ovviamente avveniva 30 anni fa, avveniva già meno 15 anni fa, avviene molto molto meno in quella che appunto io ho definito l'età moderna, dove c'è una forma di digitalizzazione comunque più diffusa certamente, c'è una possibilità di interazione diretta non tra la persona e il responsabile del dipartimento X, ma tra la persona e la fonte statistica, e c'è poi tutto un filone che è quello degli open data. Ovviamente questo non significa che non ci sono più problemi, nel senso se prima, almeno questa è la mia idea, se prima il problema era interagire con quelle persone che ti consentivano poi di raggiungere determinati fonti statistiche, ora il problema è orientarsi in questo universo, quindi è cambiato il problema ma c'è comunque un qualcosa che necessita di un passaggio ulteriore, che è appunto questo sostanzialmente, cioè siamo di fronte a un universo di fonti e dati statistici che muta nel tempo, è un work in progress, perché ogni giorno nascono dei nuovi satelliti, dei nuovi pianeti, se vogliamo usare la metafora dell'universo, e ovviamente questo significa tenersi sempre aggiornati, e per risolvere il problema di orientarsi in questo universo è necessario avere un metodo. Questo metodo in cosa consiste? Anzitutto nel tenere traccia di quello che si fa. È molto facile identificare delle fonti informative, è altrettanto facile poi perderle nel tempo, quindi è fondamentale anzitutto tenere traccia di tutto quello che si fa, soprattutto se sono fonti informative che si ritiene possono essere utili anche in futuro. In caso di dubbi chiedere sempre, io accennava Andrea al gruppo Data Ninja, c'è anche una pagina Facebook di Data Ninja, e vi posso assicurare che molto spesso è da lì che vengono delle indicazioni molto dettagliate e molto precise su quelle che possono essere le fonti statistiche più interessanti per un determinato tema, un determinato argomento che viene trattato. C'è il discorso dell'aggiornamento costante, questo è particolarmente interessante dal mio punto di vista, perché si parla tanto di Open Data, però non sempre il percorso è evolutivo, ci sono percorsi che sono involutivi. Ne faccio un esempio che è, secondo me, proprio di studio, interessante. Sui giochi pubblici e le scommesse sportive, anni fa AMS aveva attivato tutta una serie di attività per la divulgazione dei dati statistici, a 360 gradi era arrivata addirittura a pubblicare i dati Open Data. Ora tutta quella sezione statistica è scomparsa, e siamo ritornati a forme di divulgazione di nuovo intermediate e di nuovo comunque certamente lontani dagli Open Data, perché si parla di un rapporto PDF annuale. Quindi qui il discorso è aggiornarsi e capire dove trovare i dati, tenendo conto che la fonte può cambiare, può cambiare anche il modo in cui la fonte dialoga con l'utente, quindi è fondamentale l'aggiornamento. È fondamentale assicurarsi che le informazioni statistiche siano aggiornate. Io da ricercatore non ho questa esigenza, spesso e volentieri. Mi rendo conto che invece da giornalisti avete l'esigenza comunque di trattare dati che siano in qualche modo aggiornati e freschi. Cioè non potete lavorare su dati che siano aggiornati al 2011, 2012, sono oggettivamente poco notiziabili. verificare tutte le informazioni e comunque valutare sempre la possibilità di fare un matching tra più fonti statistiche, che è il modo poi di valorizzare non solo la singola fonte, ma appunto la possibilità di creare un qualcosa di diverso, che non sia la semplice analisi di quella fonte, mergiandola con qualcosa che è affine in qualche modo. Come si fa ad avere metodo? Come si fa a capire dove muoversi? Non è sufficiente avere gli strumenti. Potete essere degli ottimi giornalisti, potete essere molto schillati sul fronte della statistica, potete anche avere tutte le competenze informatiche che volete. Il punto è che se andate in questo universo, se entrate in questo universo con una navicella organizzatissima e spettacolare, ma vi perdete, è come se non avesse fatto nulla. Quindi dovete conoscere un po' di pianeti, dovete conoscere un po' di satelliti e muovervi con cautela tra i vari tragitti che fate. Io qui vi riassumo un po' quelle che sono le fonti che attualmente utilizzo di più, però ovviamente è un mondo nel quale siete voi che dovete esplorare in funzione dei temi che di volta in volta trattate. C'è sicuramente l'ISTAT. Ora, quanti di voi sono andati nell'ISTAT almeno una volta nella vita? Quanti nell'ultima settimana? Quindi iniziamo, diciamo già l'ISTAT costituisce un punto di forza in questo senso dal punto di vista delle fonti. Ancora più interessante il fatto che esiste l'ISTAT come sito internet, ma ormai esistono anche una serie di fonti informative, sempre targate ISTAT, parallele, nella forma di satelliti se vogliamo. Perché l'idea qual è di fondo? È che proprio per facilitare l'accesso alle fonti informative se ne fa un discorso di tematiche. Allora vedrete che c'è un sito sull'immigrazione, c'è un sito sulle amministrazioni pubbliche, sulla disabilità, sulla demografia, sul benessere equo e sostenibile, sul commercio estero. Ci sono poi una serie di fonti satelliti, che sono i censimenti. Noi Italia, che è uscito tra l'altro la nuova versione, ieri o l'altro ieri, non ricordo. E ha il punto ISTAT che lo vediamo più avanti perché è il data warehouse dell'ISTAT. Poi c'è il discorso delle altre fonti statistiche ufficiali in Italia. Allora qui probabilmente il modo migliore di approcciarlo è cercare di fare un minimo di ordine in termini gerarchici, cioè dire sono fonti informative generaliste o specialistiche. Le prime che vedete su sono alcune delle principali generaliste. generaliste cosa intendo? Sono fonti nelle quali i temi sono trasversali. Ogni tema non viene trattato in maniera molto approfondita dal punto di vista delle informazioni, però tiene in qualche modo aggiornato più argomenti contemporaneamente. Sono il Ministero dell'Economia e delle Finanze per tutto quello che attiene la contabilità nazionale e regionale, la Banca d'Italia per tutto quello che attiene i flussi finanziari, dati.gov.it, qui so che c'è tutta una critica su come hanno approcciato il discorso degli Appendata, però sostanzialmente è un sito che può aiutarvi moltissimo, e l'Inps per tutto quello che riguarda il mercato del lavoro. Qui apro una piccola parentesi, sul mercato del lavoro ci si concentra moltissimo sull'Istat, sul mensile famoso l'occupazione questo mese è aumentata di piuttosto che la disoccupazione è diminuita, in realtà l'Inps offre un osservatorio continuativo, statistico, su una serie di aspetti particolarmente interessanti dal punto di vista di chi si occupa di mercato del lavoro. Ci sono poi le fonti specialistiche, qui ne ho messe alcune, ovviamente ce ne sono infinite in questo momento in circolazione. L'agricoltura con Ismea, l'ISFOL per le politiche del lavoro, la CIA per tutto ciò che riguarda lo spettacolo e l'intrattenimento e l'Agenzia delle Entrate per quello che riguarda il fisco. Ci sono infine quelle georeferenziate, i limiti spesso e volentieri delle fonti informative centralizzate sono che non arrivano quasi mai a un livello di dettaglio tale da consentirvi di fare analisi microterritoriali. Le fonti georeferenziate sono l'ufficio statistico del comune di Roma piuttosto che l'ufficio statistico della regione Lazio e via discorrendo. Poi c'è tutto il discorso delle fonti informative europee e internazionali e qui rifaccio un'altra domanda. Quanti di voi sono andati sull'Eurostat? Mai. Quindi più sull'Eurostat che sull'Istat. All'interno dell'Eurostat, l'Eurostat è sostanzialmente il corrispettivo dell'Istat a livello europeo. Quindi fonte informativa generalista, su più temi, su più argomenti, in grado di seguire più tematiche contemporaneamente, sempre con un livello di approfondimento un po' più basso rispetto alle fonti specialistiche, che sono invece quelle che vedete dopo. La Banca Centrale Europea, che è il corrispettivo della Banca d'Italia, la Commissione Europea, che se volete è il corrispettivo del Parlamento, il Consiglio d'Europa e l'Open Data Portal, che è il dati.gov a livello europeo. Come vedete i temi e gli approcci sono simili, quello che cambia in questo caso è il contesto nel quale si va a fornire le informazioni statistiche. Allo stesso modo ci sono fonti informative internazionali, qui non ve le leggo, le vedete voi, poi la presentazione è già online, quindi qui secondo me a livello internazionale l'approccio migliore che potete utilizzare è navigare, studiatele, analizzatele, capite se possono esservi utili, non utili, se sono una replica di qualcosa che già esiste da un'altra parte, anche perché sono veramente una quantità infinita sostanzialmente di fonti. Tornando un attimo indietro, prima delle api, vorrei in qualche modo anche fare un passaggio ulteriore, non vorrei fare solo una lista, vorrei farvi anche capire un po' quello che operativamente vuol dire lavorare con i dati per analizzare un qualche aspetto, una qualche tematica, un qualche argomento. In particolare vi faccio vedere alcuni esempi pratici e alcuni siti internet particolarmente utili, tra quelli di cui abbiamo parlato, l'ISTAT in primo luogo. Cosa succede? Che l'ISTAT spesso e volentieri viene identificato come una fonte informativa di tweet legate alle fonti statistici, cioè vengono veicolati solamente due o tre righe per ogni comunicato stampa. In realtà dietro a quel comunicato stampa, dietro a quelle tweet, c'è molto di più. Ve lo faccio vedere proprio operativamente. Qualche giorno fa sul Corriere Repubblica leggevo del reddito delle famiglie. Ecco, l'ANSA e varie testate giornalistiche hanno rilasciato sostanzialmente le prime tre o quattro righe di questo comunicato stampa. Se voi vedete bene invece, al di là del comunicato stampa, avete una serie di fonti sulle quali dovreste lavorare proprio per fare quel passaggio ulteriore, cioè non replicare sostanzialmente quello che è stato detto o il tweet più interessante, andare un po' a studiare cosa c'è dietro. Questo vale per tutti i comunicati stampa sostanzialmente, non solo per questo. Avete ad esempio la sezione sulle serie storiche, che sono tutti i file Excel da cui sono stati tratti i dati che poi sono stati elaborati nell'ambito del comunicato stampa. Avete poi queste aree che sono l'archivio dei comunicati stampa di quel tema, l'area web della congiuntura che riprende tutti gli indicatori attinenti a quel tema, e l'accesso alla banca dati che è quella che vi faccio vedere adesso, che è forse il passaggio ancora ulteriore. Cioè non lavoro sulle fonti informative e sui dati legati a quel comunicato stampa, lavoro su dati primi, selezionando io cosa voglio vedere, come e quando. E infatti, eccolo qua. Qui, chi ci è andato qui per esempio? Ok, perfetto. Questa è la dashboard interattiva di Istat per tutto quello che riguarda le fonti informative su tutti i temi, ovviamente le principali fonti informative sui principali temi trattati. Vi faccio vedere uno così, esemplificiamo. Se andate su popolazione, oggi voglio capire qual è l'andamento della popolazione in Italia. Allora, basta cliccare su popolazione e vi si aprirà, ogni qual volta cliccato un tema, vi si aprirà una dashboard, che è questa, nella quale voi potete operare una serie di modifiche. E modificando la dashboard, modificherete ovviamente il tipo di informazioni statistiche che estraete e modificherete di conseguenza quello che potrete raccontare. Vi faccio un esempio, qui c'è tutta la serie storica dal 2002, mi sembra, al 2016. Solo il 2016 non l'hanno ancora aggiornato. Posso decidere di non vedere tutti i territori, posso decidere di vedere solamente quello che succede nel nord. Posso decidere di non vedere tutti gli indicatori. A me magari interessa solamente il discorso del tasso di natalità per mille abitanti. E ancora posso decidere che la serie storica, così come è stata ideata in quel momento, da chi poi ha creato la dashboard, è eccessiva, per cui non voglio vedere tutti gli anni, voglio vedere solo gli ultimi 4-5 anni. Ecco, questa è un'idea. E ovviamente tutte le dashboard cosa vi danno come possibilità che non avevo io 15 anni fa e neanche 5 anni fa e che non vi da il comunicato stampa nei file Excel? La possibilità di scegliere voi stessi il percorso e scegliere di volta in volta cosa far vedere, cosa non far vedere, su cosa focalizzare l'attenzione. Considerate che tutti i meccanismi che vedete qua sopra non solo sono sempre gli stessi dal punto di vista proprio metodologico, ma sono identici anche da fonte statistica a fonte statistica. Questo è stato un passaggio fondamentale perché per diversi anni tutti quanti i principali centri di informazione statistica hanno seguito un po' delle proprie regole. Cioè ognuno ha voluto sperimentare questo discorso del legarsi all'utente piuttosto che intermediarlo, però ognuno l'ha fatto a suo modo. Ora si comincia a delineare una sorta di standardizzazione. Infatti se andate sull'Eurostat e la sezione data, vedete che l'idea di fondo è la stessa, perché su qualsiasi indicatore andate a lavorare, non ho preso uno a caso, neanche l'ho letto, vedrete che dal punto di vista tecnico il principio è sempre lo stesso. Cioè loro vi forniscono un primo database che loro ritengono più interessante dal punto di vista informativo, dandovi però la possibilità di personalizzarlo. Nel caso specifico in ogni tabella vedrete sopra dei filtri, cliccando su un qualsiasi pulsante positivo all'interno del filtro vi dirà cosa volete vedere. E allora uno può decidere che nel caso specifico non ha alcun interesse per tutti i dati, vuole solo il dato del Belgio, non vuole tutti i livelli di dettaglio, vuole solamente un discorso legato al giudizio positivo, non vuole un giudizio trasversale, vuole solo il giudizio delle donne e automaticamente vedete il principio è sostanzialmente lo stesso, vale a livello nazionale, vale a livello europeo e vale anche a livello internazionale, perché anche qui se andate sulla dashboard interattiva dell'OECD, qualcuno è andato su OECD? Ecco qua proprio zero. Il principio è sempre lo stesso, hai una dashboard interattiva, guardate questo è proprio interessantissimo, perché se vedete non c'è proprio alcuna differenza tra l'Istat e l'OECD, cioè l'intera piattaforma informativa è la stessa, identica, quello che cambia ovviamente è il tipo di dati che vengono forniti e l'ambito territoriale, per cui in questo caso si parla di tutti i paesi dell'OX, nel primo caso ovviamente solo dell'Italia. Un altro esempio interessante è la World Bank, che invece ha fatto una scelta un po' diversa, che è legata non al dire io vi fornisco l'intero database e poi siete voi che di volta in volta vi andate a cercare quello che vi interessa. Vi fa la domanda prima, cioè vi dice ma a voi interessa analizzare un tema in relazione a tutti i paesi o volete analizzare quello che accade in un paese specifico. Quindi lui ha deciso di lui, chi c'è dietro, ovviamente ha deciso di porre direttamente la domanda ma a voi interessa un discorso di indicatori, di temi o di paese? A me interessa il paese. Nel momento in cui cliccate il paese, lui di quel paese, ovviamente non so, Albania, ne metto una a caso, vi dirà tutte le informazioni che lui possiede in quel momento. Allora questo vi può tornare utile ad esempio nel momento in cui non avendo tempo di fare delle scelte perché io mi rendo conto che dal punto di vista comunicativo i tempi non sono i miei, cioè io lavoro su settimane, mesi, voi lavorate penso su giornate, mezzogiornate o minuti. Ecco, in questo caso la World Bank vi può aiutare perché in un attimo potete avere tutte quelle che sono le informazioni principali su quel determinato paese. Cosa accomuna queste e altre fonti che poi non so se abbiamo il tempo di vedere, dubito. Cosa accomuna tutte queste fonti? L'idea che siate voi in qualche modo manualmente a decidere cosa vedere e quando vederlo. Ultimamente come adesso vi spiegherà anche Alessio sta nascendo una nuova una nuova un nuovo modo di fruizione di questi dati statistici che è un modo in cui se vogliamo se prima diciamo appunto nella preistoria il rapporto era tra utente e dirigente quindi era un rapporto uomo-uomo in questo momento o comunque negli ultimi 5-10 anni è stato un rapporto uomo-macchina quello che viene successivamente dopo e quindi quello che probabilmente sarà il futuro della ricerca delle fonti statistiche è un rapporto macchina-macchina e solo all'ultimo all'ultima fase di questo ciclo l'uomo ma di questo vi parlerà più dettagliatamente Alessio se ci sono domande ovviamente di qualsiasi genere se avete dubbi su come lavorare sulle fonti informative se volete rivedere alcuni passaggi ok vai bene qui sono stato abbastanza pigro in realtà perché API o API detta all'italiana in realtà è un acronimo quindi è una sigla solo che in italiano il caso vuole che indichi anche gli insetti di cosa parliamo parliamo di Application Programming Interface naturalmente qui l'inglese è un po' da padrone quindi tutte anche le sigle che vedremo in realtà hanno senso in inglese l'idea qual è Carlo ha fatto vedere come i dati che vengono pubblicati sul web in una fase più avanzata in una modalità di fruizione più avanzata non vengono fruiti passivamente o attraverso una stampa video o attraverso un download di un file statico ma vengono fruiti attraverso un'applicazione quello dell'istat dati istat IT è una vera e propria applicazione web ok come le applicazioni che voi avete sui computer ormai moltissime diciamo molto della parte applicativa dovuti ai computer ormai passa dal web e passa attraverso il browser che è una particolare applicazione che gira su diciamo l'hardware che abbiamo tra le mani e che di solito compriamo ma cosa c'è dietro per esempio se pensate a come navigate sul web potete capire abbastanza bene che tutte le informazioni che voi vi vedete nel vostro o sul vostro telefono o nel browser non risiedono fisicamente sul vostro computer tant'è vero che se staccate la rete e provate a navigare non funziona nulla questo perché perché in realtà c'è un collegamento e quindi uno scambio continuo di dati tra il vostro computer e delle macchine remote attraverso appunto quella che è internet questo questa modalità di comunicazione tra programmi in fondo cioè per esempio dal vostro browser e le macchine remote avviene mediante dei linguaggi non è casuale e le modalità con cui vengono definiti questi linguaggi per questo le macchine si capiscono poi tra di loro è proprio quella l'API quindi in realtà dietro a tutte le applicazioni anche quelle vecchie o stampo diciamo quelle che una volta installavamo ancora sul sistema operativo sul computer proprietario in realtà sotto hanno delle API che sono delle interfacce di comunicazione tra vari livelli dell'applicazione che servono ai vari livelli per comunicare tra di loro ok è una roba da programmatori da sviluppatori il bello però di diciamo di questa di questa nuova fase dello sviluppo web nello specifico è che in realtà adesso questo livello di interazione con le applicazioni è disponibile a chiunque in maniera molto più semplice in certi casi non c'è neanche bisogno di saper programmare per arrivare a questo livello di interazione con le applicazioni e questo diciamo è un po' una figura di quello che vi dicevo c'è l'utente c'è l'hardware e in mezzo c'è appunto lo schermo l'hardware personale la finestra dell'applicazione il sistema operativo e infine l'hardware di basso livello in mezzo ci sono le API ok ci sono questa interfaccia di comunicazione di tutti questi livelli questo vale anche per il web come vi dicevo e questo questa figura l'ho pensata per farvi capire che qualunque comunicazione umana quindi tra due persone in cui i due estremi sono due persone fisiche mediata però dalla tecnologia quindi non per esempio come sto parlando io a voi ma attraverso computer e il web in mezzo è mediata comunque da API quindi noi quotidianamente abbiamo a che fare con questi strani oggetti e il lavoro che fanno però i designer e gli sviluppatori di interfaccia è nascondere tutta la complessità che c'è dietro per trasformare chiamate a queste diciamo a questi programmi in click per esempio su una schermata o tap su un bottone del cellulare ma quello che bisogna capire è che qualunque tap qualunque click qualunque tasto premuto in realtà si tratta di interazione diretta con le API o i vari livelli di API dell'applicazione capite bene chiaramente che se ci si limita a usare un software esclusivamente dalla sua interfaccia grafica che sarà disegnata da qualcuno e sarà decisa da qualcuno non si può fare altro cioè non si può andare oltre a quello che quel qualcuno ti permette di fare se io non ho un pulsante che faccia quello che voglio io non lo posso fare se mi limitano a premere i pulsanti se si riesce a fare il passaggio successivo invece diciamo aumenta la complessità ma aumenta moltissimo anche le possibilità di sfruttamento delle nuove tecnologie questo al di là che uno poi lo faccia o meno quotidianamente o addirittura di mestiere di lavoro credo che sia fondamentale ormai al giorno d'oggi e sempre di più nel futuro sapere che esiste e sapere un po' come funziona perché insomma sarà sempre di più come saper leggere nei secoli passati volevo chiedervi però chi di voi ha competenze informatiche quindi ha mai visto un linguaggio di programmazione ha mai scritto qualcosa perfetto invece chi ha una formazione scientifica quindi viene da ingegneria fisica matematica scienze matematiche fisica naturali e chi ha fatto filosofia o quasi un po' meno in realtà dietro tutti questi concetti adesso vorrei parlare di come funziona il web che diciamo è il primo passo per capire come puoi sfruttare opportunamente l'API andando a scavare in fondo in fondo poi ci si ritrova con le classiche questioni della conoscenza della rappresentazione della conoscenza che diciamo per prime sono state affrontate a livello filosofico nella storia della filosofia in questo caso noi nel web abbiamo sostanzialmente una macchina client quella a sinistra che è simile al mio laptop poi dall'altra parte invece abbiamo un'altra macchina che tipicamente non vediamo mai che è la macchina server che è sostanzialmente quella che sta nei mega bunker di google amazon o altre aziende di questo tipo ma che è la stessa macchina in cui se voi avete mai comprato uno spazio web per installarci per esempio un wordpress o comunque per un blog è quella con cui avete a che fare quando modificate i file è la stessa che c'è dietro per esempio un dropbox quando caricate i vostri file sulla cloud di fatto ci sono tutti i computer che da un punto di vista strutturale non sono diversi da quelli che avete nelle borse che però diciamo hanno un fine diverso hanno l'obiettivo non di mediare il diciamo non da fare da interfaccia a un essere umano ma nel mediare la comunicazione tra macchine in mezzo c'è un labirinto in realtà c'è di tutto il web moderno è piuttosto complesso a tanti livelli e ognuno di questi è ognuno di queste interfacce ha le proprie API per fortuna diciamo il vantaggio qual è è che non c'è bisogno di conoscere tutto lo stack di API e di programmi che fanno funzionare questo splendido giocattolo basta fermarsi a il livello che ci interessa che ci permette di diciamo rispondere le nostre domande il tutto avviene in realtà in maniera molto semplice dal punto di vista concettuale stiamo parlando di comunicazione che sia tra uomini e macchine in fondo in fondo non cambia granché e quindi in realtà il pattern fondamentale è questo ci sei? sì mi dai questa risorsa? ce l'ho te la do avviene tutto così quando noi scriviamo un url sul nostro browser www.dataninja.it il nostro browser in particolare il nostro computer che è connesso da internet manda una richiesta a una serie di computer sulla rete ognuno di questi risponde può rispondere naturalmente con un errore ma poniamo che non ce ne sono rispondono a una richiesta quindi request response pattern se la richiesta è esaudibile ed esaudita rispondono a una risorsa che potrebbe essere tipicamente una pagina web poi il nostro browser raccoglie questa informazione e la la presenta a video nel caso specifico ma potrebbe farci qualunque altra cosa tant'è vero che per esempio chi gioca online non è che vede qualunque cosa tutte le informazioni che passano attraverso la rete sono esplosioni tattiche strategie chat eccetera suoni questa diciamo è la parte concettuale cioè il il web moderno funziona così c'è una un sistema client server quindi una macchina che chiede un'altra macchina delle informazioni c'è un protocollo di request response quindi richiesta risposta e poi a livello pratico è implementato in un protocollo che si chiama http che nasce qualche decennio fa nei laboratori del CERN con un volto noto insomma ormai Tim Berners-Lee che se lo inventa questa è un'implementazione ce ne sono state tantissime questa è quella che ha vinto nella storia dello sviluppo di internet e come funziona ci sono due macchine che parlano da una parte c'è una richiesta che è composta da vari pezzi c'è un un tipo di richiesta dei campi di header diciamo di intestazione che definiscono una serie di parametri e poi un corpo che definisce ciò che sto chiedendo ok come se io chiedessi a te come ti chiami ti mando c'è una richiesta e tu se sei in grado di capire naturalmente la mia domanda perché parla italiano perché capisci riesci a sentirmi e non ci sono impedimenti probabilmente mi rispondi con il tuo nome quindi hai capito hai raccolto la mia richiesta l'hai elaborata ovviamente lo fai il tuo cervello in qualche nanosecondo e poi rispondi e il messaggio torna indietro il messaggio che torna indietro è simile c'è un codice di status che dice sì ho capito poi una serie di campi di risposta e infine la risposta vera e propria in questo caso il nome della persona dico cose ovvie o troppo complicate ho visto un pollice alzato quindi questa è adesso questa sembra una cosa brutta ma in realtà è quello che voi scrivete o comunque vedete se non lo scrivete tutti i giorni sulla barra degli indirizzi del vostro browser questo perché perché per fare delle richieste di qualcosa bisogna poterla indicare se io chiedo a lei di passarmi quella bottiglietta d'acqua gli faccio una richiesta ma gli indico gli punto anche una risorsa in questo caso la bottiglietta d'acqua quindi devo avere un modo per indicare la risorsa che mi serve l'oggetto e questo si fa attraverso lo uniform resource identifier che è un modo di scrivere un indirizzo sostanzialmente in realtà questo è l'identificatore univoco della risorsa poi quello che conosciamo tutti è l'url quindi l'url che invece è proprio l'indirizzo immaginate che questo diciamo è il numero civico e invece l'url è proprio l'indirizzo completo che porta a quel portone questa è la struttura della stringa che indica l'url e che conosce tutti però questa volta diciamo ho sostituito le lettere che uno scrive sempre senza sapere quasi di cosa cosa significano con invece il loro significato di solito scriviamo http o https che è il protocollo l'abbiamo visto prima se io usassi un altro gruppo di lettere per esempio ftp sto dicendo al mio browser di comunicare con un computer remoto con un'altra lingua come se dicessi invece che in italiano comunicaci in inglese se quell'altro macchina è in grado di capire questa richiesta risponderà di conseguenza quindi al posto di protocollo immaginate http ma vedete l'esempio sotto ovviamente poi normalmente noi accediamo quasi sempre a risorse pubbliche che non richiedono autenticazione e mica è vero un sacco di risorse web non sono affatto pubbliche sono sotto tipicamente user e password quindi in realtà il formato universale dell'url richiede un nome e una password nome e due punti password ok che è un meccanismo di autenticazione tipicamente questa cosa cioè user password e la chiocciola non la vediamo quasi mai ma in realtà esiste infatti in alcuni casi si usa e funziona come deve poi c'è l'host l'host è il dominio è quello che identifica sostanzialmente la casa dove vogliamo andare che stiamo richiedendo in questo caso www.festivalgiornalismo.com a volte potete vedere anche dei numeri che sono l'IP perché in realtà le macchine su internet sono identificate da numeri non da parole il fatto che vengano usate delle parole con i punti in mezzo eccetera deriva da un meccanismo di risoluzione che è in grado di riconoscere una parola che in realtà identifica un IP ma questo diciamo adesso in realtà ci interessa poco immaginatelo l'host come festivalgiornalismo.com a volte potete vedere anche i due punti porta perché in realtà storicamente questo non c'è nessun motivo profondo comunque parlare con un computer tipicamente non c'è una sola porta dove di ingresso in una casa ce ne sono tante può entrare anche dalla finestra e le porte sono dei numeri interi che vanno da diciamo da 1 mettiamo fino a n1000 quella standard dell'http è la porta 80 e quindi non la vediamo mai perché è quella standard se usiamo http il browser sa già di che si sta parlando però non spavate ventatevi insomma se lo trovate certe volte si riescono a raggiungere anche delle risorse interessanti ma un po' nascoste cambiando la porta poi abbiamo l'indirizzo vero e proprio che è slash e il path che nel caso nell'esempio è post slash tag slash igf16 questo è il è la pagina che rappresenta la tutti i post del blog che sono taggati con il tag igf16 quello corrente siamo entrati diciamo non solo siamo entrati in casa attraverso l'host e la porta ma siamo anche finiti nella giusta stanza attraverso il path a volte vedete anche qualcos'altro un punto e virgola vi sarà capitato tante volte questo perché perché non solo noi arriviamo nella stanza che cerchiamo cioè la risorsa che cerchiamo ma questa risorsa potrebbe non essere del tutto statica quindi per esempio un file ma potrebbe essere quello che si dice parametrizzata cioè potremmo modificare il tipo di risorsa che otteniamo cambiando dei parametri l'esempio più classico per chi usa i blog è che spesso sono fatti così cioè slash è tutto un path attraverso gli slash altre volte potete vedere punto interrogativo id uguale un numero vi sarà capitato tante volte quello perché sto chiedendo in realtà quel dominio e quel percorso ma in realtà quel percorso corrispondono tante risorse tantissime per esempio tutti i posti di un blog tutti se io ne voglio uno solo però gli passo gli passo l'id la chiave specifica del post che voglio il valore e in quel caso ottengo per esempio una risposta univoca che è un solo post nell'esempio non è visualizzato infine c'è un ultimo pezzo che magari si scordano tutti ma esiste che è l'hash cioè oltre al punto interrogativo a volte vedete anche i cancelletti no? con una parola dopo quello tipicamente per chi si ricorda non ce ne sono più anche se adesso hanno un altro significato una volta c'erano le ancore uno aveva la pagina unica poi aveva tutti i menu ci cliccava e scendeva scrollava direttamente al paragrafo quello avviene attraverso l'identificazione di un hash a volte adesso la vedete quando per esempio installate plug-in per il tracciamento e per avere una migliore metrica sui post che per esempio vengono vengono condivisi su twitter o su facebook o su social questi plug-in a volte all'url aggiungono un hash qualcosa tipicamente una serie di caratteri strani non è niente di strano appunto è l'hash questo sostanzialmente è la struttura più generale possibile di un url che ci frega ci frega perché in realtà il bello non è tanto qua il bello è qua avviene qua perché questo oggetto di fatto è quella che si chiama una stringa di ricerca una query string in cui i parametri della ricerca sono codificati in questa parte come coppia di chiave e valore avete mai visto come quando ci sono non i pulsanti di twitter i link di condivisione a twitter questa parte qua io questo l'ho preso proprio dal sito del giornalismo del festival quindi per esempio il festival che credo sia basato su wordpress il sito usa questo tipo di condivisione vedete che in realtà il dominio diciamo la risorsa che io chiedo è sempre twitter.com slash share quella è generica non dice nulla perché però quando ci ricco sopra mi si apre una pagina in cui c'è twitter che non c'entra niente col sito del festival del giornalismo con le informazioni dentro quindi col testo del tweet già fatto con l'hash magari già un hashtag già valorizzato con la menzione automatica com'è possibile come fa a saperlo non sa perché in realtà nel link ci sono tutte queste informazioni sotto forma di parametri della stringa e tra l'altro sono anche abbastanza comprensibili voglio dire qua ti sta dicendo mio caro share risorsa share di twitter.com mi devi condividere url quale url questo me lo devi condividere con un tweet che ha nel testo che testo questo lasciate perdere i percentuali 20 i percentuali 20 sono gli spazi sono una codifica degli spazi va bene ma che menzione ci devo mettere chi devo menzionare giornalism fest questo per esempio è utile perché se voi costruite conoscendo come è fatto twitter che ve lo dice chiaramente ci sono una documentazione opportuna per esempio un errore che molti fanno che spesso si vede anche sui siti dei giornali grossi è che a volte per esempio questa parte non è valorizzata quindi tu hai l'utente che sul tuo sito condivide il tuo contenuto e non ti menziona quindi è come se in qualche modo non ti dà traffico anche su al tuo utente insomma su twitter ok invece è molto utile tant'è vero che se andate a vedere le mille milla guide su come aumentare la vostra presenza sui social eccetera eccetera vi dicono leggetevi la documentazione e valorizzate tutti i campi che twitter vi mette a disposizione fatelo con intelligenza e secondo la vostra strategia questo vuol dire che non c'è bisogno di fare cose strane se adesso voglio invece che questo voglio condividere un'altra cosa basta che cambio questa stringa questo è testo è puro testo se faccio così faccio ctrl c e lo metto qua non ho cliccato da nessuna parte funziona tutta l'informazione che serve è in quella stringa il che vuol dire che se io questa stringa la cambio e invece di metterci invece che invece che avi ci metto vespe vespe ok questo in realtà pensateci pensate se volete condividere mille mille urla lo fate a mano? certo potete fare copia e incolla farla a mano oppure potete scrivere una semplice diciamo mettiamo un programma ma un programma di una riga in cui fa un ciclo e dice va bene chiamami questa urla mille volte però cambiando sempre il parametro url e quello ti condivide mille tweet per esempio in mezzo secondo quindi capite diciamo il la potenza di capire in realtà cosa c'è dietro cioè come è costruita la tecnologia che noi usiamo tutti i giorni volevo farvi vedere un caso specifico che è questo questo forse lo posso chiudere che ne dite ecco questo ne parlava prima Carlo questo è il sito dell'agenzia delle dogane dei monopoli di stato italiane in una parte fa un sacco di cose ma una parte di questo sito contiene l'elenco di tutti gli esercizi commerciali in Italia autorizzati a installare slot machine nel new slot io adesso ho cliccato qua che ha un url strano ma in realtà è esattamente quello che conoscete l'avete già visto ve l'ho spiegato adesso e mi ha aperto una pagina in cui c'è già tutta la lista filtrata per Perugia se io volessi un'altra provincia dovrei cliccare qua mettere per esempio Pavia ok ma non c'è bisogno che clicco io qui ho come chiave di ricerca provincia PG mettiamo per esempio Roma non sto interagendo con la pagina sto scrivendo un url invio Roma questo è un modo per navigare un sito senza cliccarci sopra senza farla a mano perché se io vi chiedessi va bene ma siccome qua ci sono circa 100.000 righe in Italia sono circa 110.000 gli esercizi commerciali autorizzati e se io volessi il dataset completo perché lo voglio studiare lo voglio analizzare e ci voglio fare un'inchiesta posso scaricarlo? no questo sito non ti permette di scaricare l'intero dataset ti permette solo di navegarlo cliccando a mano provincia per provincia comune per comune pagina per pagina adesso ok pagina per pagina per scaricarlo per esempio qui entriamo nel magico mondo dello scraping ci vuole un modo che navighi il sito e scarichi tutte le tabelle il trucco che ci sta sotto è proprio quello cioè quello di capire qual è il formato della query che serve per scaricare per richiedere quella risorsa cioè quella pagina specifica e poi farla scaricare direttamente al computer che fa la stessa operazione chiaramente non a mano cioè un click ogni due secondi ma fa l'equivalente di centinaia di pagine probabilmente in meno di un secondo per capirci questo è diciamo la base dello scraper che abbiamo scritto quando abbiamo analizzato questi dati per l'inchiesta slot invaders quindi un'inchiesta sia italiana sia nazionale sia locale a Genova e in Toscana e a Milano sul fenomeno delle ludopatie e del gioco d'azzardo in Italia cioè questo giochino sostanzialmente capire questa cosa ha permesso di fare un'inchiesta giornalistica c'è un altro modo mi chiedo forse aiuto su che ora è forse c'è scritto qua tre perfetto queste informazioni cioè le chiavi di ricerca i parametri di ricerca chiave valore a volte lì si trova come abbiamo visto direttamente nell'urla a volte invece sono nascosti cioè sono incapsulati nascosti dentro quelle che abbiamo visto prima l'intestazione della richiesta quindi non si vedono lì sull'url è facile cambio la stringa dell'url premo invio e navigo dove voglio quando invece i siti sono fatti in questo modo e usano un altro metodo che è post invece che get non c'è chiave uguale valore nell'url ma insieme alla richiesta viene inviato questo oggetto strambo ma in realtà l'informazione è sempre la stessa sempre url text e via ok vi faccio vedere un esempio questa volta prendiamo prendiamocela con la scuola questo è il sito scuola in chiaro Italia sempre qua parliamo di la pubblicazione di moltissimi dati riguardo le scuole italiane dalle scuole di infanzia fino alle superiori in particolare ci sono un sacco di indicatori sulle singole scuole e anche sui singoli plessi delle scuole di vario genere guardate disoccupazione immigrazione quindi anche di contesto del territorio intorno alla scuola una delle cose interessanti di cui si è parlato molto nell'ultimo periodo è questo delle prove invalsi cioè che è questo sistema di verifica della preparazione degli studenti in Europa che viene fatto sostanzialmente ogni anno mi pare quindi ogni anno ci sono degli ispettori che vanno alle scuole o comunque inviano dei questionari alle scuole i bambini dalla scuola primaria fino ai superiori fanno questi test e poi loro raccolgono tutto fanno un'analisi e vedono per esempio chi è più preparato e chi meno incrociano i risultati in italiano e matematica con gli indicatori territoriali di povertà per esempio o di benessere ora vi faccio vedere in questo caso se io clicco qui questo ci sono arrivato direttamente al liceo Galilei di Perugia clicchiamo qua abbiamo una bella tabellina che ci dice il risultato il punteggio normalizzato questo adesso non vi sto a spiegare che cos'è però è il punteggio di questa scuola in italiano e matematica ok ora fatemi chi ha mai usato la console di un browser oppure lo strumento per sviluppatori di un browser mazza un sacco di gente in Chrome se cliccate con il destro su qualsiasi pagina c'è la voce ispeziona questo vale per tutti per tutti i browser in realtà poi cambiano un po' i nomi eccoci qua qua possiamo vedere quello che si chiama il sorgente della pagina aspetta che mi sono perso l'italiano ecco ok questa è l'HTML se l'avete visto bene se non l'avete visto non importa adesso non voglio parlare di HTML quello che mi interessa in realtà è questa questa scheda qui network quando si abbiamo detto quando si carica una pagina con l'url viene fatta una richiesta remota a cui un server remoto risponde e tipicamente una pagina non è composta da una sola risorsa è composta da un sacco di risorse ve lo faccio vedere perché qui per esempio questa è tutta la lista di risorse che vengono aspetta ve lo allargo un po' piccolo è la lista di risorse file sostanzialmente che vengono richieste al caricamento della pagina adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire per questa pagina che so già il risultato guardate quanta roba caricate quando scaricate quando accedete una pagina qui ci sono decine e decine di risorse tra immagini script pagine HTML guardate quanti sono fogli di stile che per esempio definiscono i colori della pagina sono davvero tante spesso i dati se uno li vuole andare a chiappare magari in una pagina sono messi male stanno qua dentro sono in realtà una risorsa separata che si può trovare qua dentro ve lo faccio vedere subito chiudiamo un pochino questa qui dove sta? dove sta? eccolo qui svuoto la lista e clicco su le prove la tabella di prima vediamo che in realtà la mia azione clicca su quel pulsantino che mi apre questa questa sezione in realtà effetto una richiesta al server della scuola se io ci clicco sopra e vedo la preview guardate un po' in realtà questa tabella non è nella pagina viene richiesta al mio click e come fa a sapere che deve proprio farmi vedere i dati della scuola Galilei di questo tipo lo sa perché in realtà io in maniera nascosta glielo ho detto là dentro vedete form data questo qua questo è l'equivalente di quello che vi ho fatto vedere qua sono le stesse tipologie di informazioni solo che qui era per twitter qui invece è per il sistema di scuola in chiaro così lo capite subito eh? vi ricorda qualcosa? è proprio la query string di cui che abbiamo visto prima quindi il fatto che io cliccando lì lui mi dia esattamente l'invalsi le prove di studenti a matematica cioè l'indicatore 2 2 a 4 guardate dove è scritto ve lo rimetto così qua e il fatto che sia proprio quella scuola è qua vedete che c'è un codice univo con le scuole il codice meccanografico questo però significa che se io faccio una richiesta non attraverso il browser ma in altro modo mandandogli queste informazioni ma per esempio cambiando codice lui mi risponde con quei dati ma di un'altra scuola questo vuol dire che se io ho l'elenco di tutti i codici meccanografici e automatizzo la richiesta di questa risorsa posso ottenere tutti i risultati invalsi delle scuole italiane in pochi secondi cosa che non è possibile fare a mano perché il sito non permette di scaricare il dataset dell'invalsi ti permette solo di accedere al singolo valore della singola scuola a mano cliccando su n pagine n volte non ci puoi fare analisi andando a trascrivere a mano scuola per scuola che sono circa 10.000 in questo caso mentre automatizzando questo processo e capendo come funziona di fondo il sistema questo permette di in fondo in realtà senza violare niente perché sono sto cercando delle informazioni pubbliche di ottenerle in un formato che mi è utile l'informazione in sé pubblica ok semplicemente non hanno permesso di scaricare un bel pulsettino clicca scarica tutto c'era una domanda era in realtà molto legata a quell'operazione che ho appena fatto ovvero c'è una differenza sostanziale però tra avere queste informazioni in un url oppure cliccare su un componente della pagina che poi fa una richiesta di alcune informazioni perché se io faccio clic con destro su il più lì e dico copia link con nome copiami link negli appunti non ricevo le informazioni ricevo la stessa pagina no? sì perché qua vediamo un po' come è fatto questo oggetto cioè quello che ci sembra un link che è questo in realtà non è un link come lo conosciamo cioè non è legato a un url vedete qua che c'è scritto on click si capisce no? on click sarebbe il codice che il browser esegue quando ci clicca sopra che non ci si capisce niente cioè sinceramente non ci si capisce davvero nulla mentre normalmente gli url a cui siamo abituati tipo questo forse lo conoscete manca questo aspetta un url normale non c'è no aspettate lo troviamo un url normale oh questo è un url normale vedete è il classico tag a href e l'url se io invece di cliccare qua clicco qua per esempio apri un'altra pagina ottengo proprio quella pagina giusto tutto come atteso alcuni link in realtà sono soffinti non sono veri link ma cliccandoci sopra eseguono uno script un programma che per capirci il linguaggio di programmazione si chiama javascript che fa cose tra cui aprire pagine ok o richiedere risorse remote io posso però dimenticarmi come funzioni non me ne frega niente può farli in qualunque modo quello che faccio attraverso la scheda network è intercettare il traffico cioè non mi interessa come richieda quell'informazione con quale meccanismo strano io so che viene richiesta so che è quella che è fatta così chi prepara questa richiesta che sia uno script sia una cosa strana una cosa brutta in realtà non è poco interessante quello che è interessante sono i parametri che mi servono per replicare quella richiesta e il fatto che possa replicarla per fini che non sono pensati attenzione da chi ha sviluppato il sito perché chi ha sviluppato il sito l'ha sviluppato pensando a persone che cliccassero e fossero interessate a usare solo la scuola per volta magari la propria quella dei propri figli io però da analista non mi interessa una scuola specifica che non conosco tipicamente mi interessa analizzare tutto il dataset bene abbiamo una dozzina di minuti rapidamente questa cosa scritta così che è sostanzialmente equivalente a quello che avevamo visto qui le informazioni sono le stesse sono scritte solo in un formato diverso e questo è importante perché queste sono informazioni che in qualche modo sono per sé cioè sappiamo che l'url è quella stringa lì come vengono rappresentate così con chiave uguale valore chiave uguale valore oppure così parentesi graffa chiave due punti valore eccetera in realtà è solo una forma di rappresentazione dell'informazione rappresentazione se avete in mente il quadro di Magritte la pipa questa non è una pipa il quadro che rappresenta una pipa non è la pipa è una rappresentazione della pipa la pipa è un'altra cosa è un oggetto che non c'entra niente tant'è vero che il quadro che rappresenta una pipa non potete fumarlo questa è la stessa cosa beh oddio adesso è improbabile diciamo che può accadere di tutto però ormai come rappresentiamo queste informazioni c'è un sacco di modi possiamo scrivere in italiana in inglese possiamo usare la musica le informazioni si rappresentano in un'infinità di modi il modo che oggi viene usato di più il formato che viene usato di più oggi per far comunicare macchine tra di loro è il JSON si chiama così avete mai sentito parlare di doc o xls certo txt certo JSON è la stessa cosa solo che è un formato per rappresentare informazioni diverse il doc serve per rappresentare testi formattati l'xls serve per rappresentare è uno dei tanti modi per rappresentare fogli di calcolo il txt per rappresentare testo non formattato questo qua è per rappresentare una informazione strutturata sempre della forma chiave valore in realtà è testo semplice cioè il JSON le specifiche del JSON ti dicono solo usa la parentesi graffa per fare sta cosa usa la parentesi quadra per fare quest'altra cosa usa le doppie virgolette per rappresentare una stringa di testo però in realtà è un file di testo cioè il JSON è un file di testo che potete modificare con un qualsiasi editor tipo notepad quali sono le informazioni che posso rappresentare in questo modo testo quelle che conosciamo tutti testo numeri interi numeri con la virgola punto ovviamente perché notazione angolo sassone valori booleani quindi valori vero falso o 0 e 1 binari il valore nullo perché esiste anche il valore nullo anche se magari i filosofi potrebbero parlarne per secoli dell'esistenza del nulla e poi posso avere anche collezioni di questi elementi quindi non solo un numero intero ma per esempio una serie di numeri in questo caso un array semplice ordinato 1,2,3,4 oppure quello che si chiama un array associativo o più in italiano dizionario classico dizionario è fatto parola definizione della parola il dizionario in italiano il vocabolario questa idea è la stessa chiave cosa valore ijf16 dove di nuovo la chiave cosa perugia chiaro no? lì cosa sto dicendo è un oggetto che mi dice cosa e dove si scrive in quel modo quello che forse noi conosciamo molto è il csv perché tipicamente noi rappresentiamo siamo abituati a rappresentare l'informazione sotto forma di tabelle chi ha mai lavorato con una tabella in vita sua? tutti ok no forse qualcuno no però la tabella l'ha vista no? la tabella è una cosa fatta orizzontale e verticale sostanzialmente è una matrice una griglia la prima riga tipicamente è il nome delle colonne e poi all'interno delle scelle ci sono le informazioni il csv è un modo di rappresentare la tabella la tabella non esiste di per sé cioè non si tocca una tabella è un concetto poi c'è un modo di rappresentare le tabelle e per esempio di memorizzarle è un modo è il csv in cui la divisione tra campi è fatta con la virgola la divisione tra righe è fatta con la capo molto semplice tant'è vero che è molto leggibile cioè la forma classica della tabella e la forma classica del csv insomma alla fine al di là degli allenamenti è abbastanza semplice si può rappresentare la stessa informazione con un json cioè in altro modo rispetto al csv è certo le rappresentazioni spesso sono intercambiabili ok quindi l'informazione che lì ho rappresentato con un csv là sotto l'ho rappresentata con un json e che cos'è in fondo una tabella non è altro che un array le parentesi quadre di dizionari le parentesi graffe in cui ho per chiave la colonna e per valore la cella chiaro no questa è abbastanza leggibile questa riga ha id uguale a 1 nome Carlo cognome Romagnoli mail e twitter poi ci sono io seconda riga id2 nome Alessio cognome Cimarelli ok tra l'altro quella è molto semplice ma è una rappresentazione di me voi siete memorizzati dentro facebook è così cioè per facebook voi voi proprio la vostra persona è più o meno fatta così ok a quella faccia là il bello però è che le rappresentazioni possono essere diverse per rappresentare la stessa cosa per esempio questo modo di rappresentare la stessa tabella è perfettamente equivalente in questo caso uso le chiavi e poi ci metto la vedo dal punto di vista della colonna id che valori ho? 1 e 2 vedi? lo leggo in verticale il nome che nomi ho? Carlo e Alessio vedete? e questo è un altro modo ancora di rappresentare perché il JSON si usa il JSON e non il CSV? perché in realtà il JSON è più generale cioè il mondo in realtà non è fatto di tabelle cioè il mondo non è tabellare o se volete al di fuori delle tabelle c'è un mondo non tutto si può mettere qua dentro ok? perché per esempio il JSON mi permette di mettere all'interno di oggetti altri oggetti quindi fare una struttura annidata molto più complessa che non è rappresentabile da una tabella ve ne faccio vedere una cosa un oggetto che conoscete perfettamente a meno dito un tweet voi di solito vedete i tweet fatti in questa maniera scusate dove sta? qua eh? questo che cos'è? un tweet no questa è una rappresentazione particolare di un tweet che è un oggetto di nuovo iperurianio platonico questa è una rappresentazione del tweet che è la rappresentazione che Twitter ha scelto per la fruizione dei vostri occhi del vostro cervello cioè la fruizione umana in realtà nei loro sistemi un tweet è rappresentato da questo coso da un oggetto che è una chiave statuses questa scusate è una collezione di tweet quindi diciamo parte da qua il tweet questo poi è un array di tweet ha una chiave coordinate oddio è grande guardate quante informazioni c'è in un tweet ci sono le coordinate che in questo caso non ci sono ti dice se è stato flaggato come preferito se è stato troncato quando è stato creato che idea se ha delle entità quindi se ha degli url degli hashtag interni questa json abbastanza complesso rappresenta un tweet e se date un'occhiata e spippolate un po' e ve lo leggete scoprite che qui ci sono molte più informazioni relative al tweet di quanto i furbacchioni di twitter non ti facciano pensare qua dentro cioè qua dentro per esempio il dove il fatto che sia tutte le informazioni relative all'utente qua non ci sono c'è il testo si vedono gli hashtag per esempio vediamone uno con gli qui c'è festival giornalismo program ma già qua per esempio sta dentro l'urlo completo c'è l'immagine ce n'è una ce ne sono di più qual è l'ur diretto all'immagine ad alta risoluzione tutte queste informazioni qua o non ci sono sono un po' nascoste invece qua dentro c'è tutto quindi qual è l'idea è che se noi siamo interessati per esempio a raccogliere tweet o a raccogliere alcune informazioni specifiche su un tweet o su una serie di tweet o su un utente ma vogliamo farlo con la massima libertà non dobbiamo guardare qua dobbiamo guardare qua cioè sarebbe bello accedere direttamente all'oggetto diciamo più completo che rappresenta quel tweet e questo si può fare perché twitter nello specifico mette a disposizione quelle che 5 minuti quelle che si chiamano appunto API di twitter che permettono di fare la stessa cosa che noi facciamo qui per esempio fare una ricerca no? ricerco l'hashtag ijf16 e ottengo l'elenco di tweet posso fare esattamente la stessa cosa ma non cliccando ma usando direttamente l'API di twitter torniamo qui questo qui è uno strumento diciamo che vi permette di giocarci con questi API di twitter in maniera semplice con cui potete fare le query che vi dicevo prima con quel formato di prima e ottenere il risultato completo quindi tweet sotto forma di json eccolo qua in questo caso bisogna autenticarsi perché bisogna sempre autenticarsi non c'è nulla di di anonimo io qua mi sono già loggato mi dovrei riloggare vediamo se è vero ah no bastava aspettate no 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 probabilmente no lui ha ricaricato la pagina vediamo un po' questo strumento è pubblico naturalmente lo mette a disposizione direttamente twitter quante volte avete visto questa schermata infinità di volte quando fate i login i social login o autorizzate le app per fare cose strane autorizzo l'app in questo caso mi sto dicendo cara applicazione agisci e fai richieste a twitter come se fossi io con le mie chiavi di autenticazione per esempio dammi i miei i miei tweet i miei ultimi tweet questa è la la query questo naturalmente non è che me lo invento sta scritto nella documentazione basta leggerla quindi lui ti dice guarda se tu chiami abitwitter.com 1.1 statuses usertimeline.json io ti rispondo con tutti i miei ultimi tweet cioè con la presentazione in formato json dei miei tweet e con questo posso fare per esempio le ricerche per hashtag e posso salvare i tweet per poi analizzarli dopo tutte le applicazioni che fanno social bla bla analytics fanno questa roba qui il bello se lo si sa e se un po' ci si perde un po' di tempo è che si può bypassare il tool e andarsi a vedere le cose esattamente come stanno andando un po' più a fondo e quindi ovviamente avendo molta più libertà visto che sono stato un po' lungo il tempo è finito sostanzialmente vi dico che la stessa identica cosa c'è anche per il buon facebook anche qui potete dovete autenticarvi chiaramente dovete essere autenticati e potete navigare questo ovviamente come prima mi ha mi ha cacciato potete navigare il grafo di facebook e quindi tutti tutte le risorse a cui voi potete accedere navigando su facebook scrivendolo qua però scrivendo direttamente la query estesa e ottenendo molte più informazioni rispetto a quello che potete fare cliccando sulla pagina di facebook qua per esempio chiedo me me stesso e vedete come io sono rappresentato come mi conoscono quelli di valo alto così io sono un id sono un numeretto ho un nome ma in realtà ho tante altre cose ho un about ho un età ho un abbio ho un dato di nascita eccetera eccetera tutte le informazioni che voi mettete su facebook internamente vengono memorizzate così e tutti i giocarelli che fa facebook con le vostre informazioni personali con le nostre informazioni personali avviene avvengono facendo analisi su questi su questi dati fatti in questo modo il bello è che mettono a disposizione comunque queste grandi aziende almeno con alcuni limiti a meno che non si voglia non si paghi chiaramente la possibilità di accedere direttamente al loro database di fatto attraverso queste API e questo beh ovviamente apre la possibilità il limite è solo la fantasia e i loro chiaramente i limiti per l'accesso gratuito è evidente si fanno pagare anche parecchio Twitter si fa pagare se volete tutto Twitter senza limiti si fa pagare circa un euro ogni mille tweet tenendo conto che che ne so il traffico italiano è svariate milioni di tweet al mese vuol dire migliaia di euro al mese un abbonamento all'accesso pro di Twitter costa svariate migliaia di euro al mese poi dipende dai servizi che attivate eccetera eccetera però potete farlo se avete dietro magari non di tasca vostra potete analizzare direttamente le informazioni in questo modo pagando una sottoscrizione oppure limitandovi all'accesso pubblico l'API chiudo qua mi sa che ce ne dobbiamo andare quindi se poi volete avere dubbi ne parliamo tra di noi qua fuori grazie a tutti 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 e quindi aveva a che fare con la burocrazia questo ovviamente avveniva 30 anni fa avveniva già meno 15 anni fa avviene molto molto meno in quella che appunto io ho definito l'età moderna dove c'è una forma di digitalizzazione comunque più diffusa certamente c'è una possibilità di interazione diretta non tra la persona e il responsabile del dipartimento X ma tra la persona e la fonte statistica e c'è poi tutto un filone che è quello degli open data ovviamente questo non significa che non ci sono più problemi nel senso se prima almeno questa è la mia idea se prima il problema era interagire con quelle persone che ti consentivano poi di raggiungere determinati fonti statistiche ora il problema è orientarsi in questo universo quindi è cambiato il problema ma c'è comunque un qualcosa che necessita di un passaggio ulteriore che è appunto questo sostanzialmente cioè siamo di fronte a un universo di fonti e dati statistici che muta nel tempo è un work in progress perché ogni giorno nascono dei nuovi satelliti dei nuovi pianeti se vogliamo usare la metafora dell'universo e ovviamente questo significa tenersi sempre aggiornati e per risolvere il problema di orientarsi in questo universo è necessario avere un metodo questo metodo in cosa consiste anzitutto nel tenere traccia di quello che si fa è molto facile identificare delle fonti informative è altrettanto facile poi perderle nel tempo quindi è fondamentale anzitutto tenere traccia di tutto quello che si fa soprattutto se sono fonti informative sì allora come ha anticipato Andrea io faccio non sono un giornalista io faccio ricerca la faccio da insomma una quindicina d'anni quindi sostanzialmente trascorro le mie giornate cercando elaborando e soprattutto valorizzando quelle che sono le fonti informative presenti sul web oppure offline a livello istituzionale o pare istituzionale o privato a livello locale nazionale internazionale cosa succede che quello con cui ho a che fare quindi giornalmente è un universo sostanzialmente di fonti informative ed è un universo che come tutti gli universi tende ad evolversi più che di evoluzione qui parlo proprio di una rivoluzione se vogliamo nel senso che io ho vissuto in qualche modo quello che è quelli che sono stati gli ultimi singulti della preistoria e una preistoria nella quale comunque l'accesso alle fonti informative era un accesso riservato esclusivamente a un determinato target di persone che erano poi ricercatori particolarmente avvezzi a quelli che erano i rapporti con tutto il mondo della pubblica amministrazione che avevano accesso facilitato in quanto ricercatori istituzionalmente rappresentati nel caso mio specifico dall'Eurispes ma ovviamente questo valeva anche per molti altri istituti di ricerca che andavano in circolazione a quel tempo era un un mondo nel quale lavoravi prevalentemente con documenti cartacei aveva una scarsa accessibilità perché era comunque un'accessibilità sostanzialmente veicolata da rapporti interpersonali con i referenti dei dipartimenti statistici delle varie istituzioni di Scimarelli che è un lavorato in fisica diciamo così si occupa invece più della parte come dire tecnologica delle fonti dei dati qual è il senso di questo talk misto fatto così il senso è che diciamo per tanti anni raccogliere e analizzare i dati è stato fatto in un certo modo e quindi è interessantissimo vedere come è cambiata la professione di Carlo che lavorava 15 anni fa 13 anni fa a Eurispes quindi pensate quanto è vecchio come è cambiato il suo modo di lavorare in questi anni e poi come il modo di lavorare diciamo gli strumenti tecnologici possono aiutare a estrarre i dati e a lavorarci insomma per attività insomma di analisi approfondimento di visualizzazioni il talk il workshop dura fino alle 15 e 30 finiremo 5 minuti prima per dare spazio per dare la possibilità insomma di cambiare con il successivo workshop quindi non ci sarà una fase di domande alla fine ci sarà c'è però la possibilità anzi vi chiedo di farlo di interromperli e fare domande se sono poco chiari ci sono cose che vengono fuori un po' male quindi cercando di rendere il tutto il più interattivo possibile grazie benvenuti ha detto molto Andrea lo ringrazio giusto un attimo un'introduzione su in realtà cosa è data ninja e cosa ha fatto e quindi cosa facciamo anche per vivere oltre a essere qui al festival del giornalismo di Perugia è un network europeo di data giornalisti l'ho messa un po' all'italiana e potete trovare tutte le informazioni su di noi e sul nostro lavoro sui vari siti del nostro network da data ninja.it che è il blog ufficiale abbiamo una school quindi un sito pensato per le learning dove mettiamo tutti i nostri materiali di tipo formativo poi ce n'è una invece una collezione di blog dedicati alle inchieste che facciamo noi ogni inchiesta diciamo di una certa dimensione abbiamo anche un nostro spazio diciamo che gestiamo autogestito per raccontare anche il retroscena delle nostre inchieste e poi abbiamo una newsletter mensile a cui vi potete abbonare le nostre inchieste principali le ho messe più o meno nell'ordine cronologico inverso quindi dalla più recente alla più antica confisca di bene quindi beni confisca della mafia bolivia's water war quindi questione di guerra dell'acqua in bolivia migrants files invece sui migranti eccetera come vedete dalla giornalism non è legato a un tema ma è più un metodo e qui potete trovare torno un attimo indietro perché all'indirizzo che vedete lì a destra sotto il ninja b dtnj.it ijf16 trattino fonti trattino api trovate la questa queste slide già online pubbliche quindi potete seguire se avete aggeggi vari per connettervi a internet tutti i link come detto la data ninja school passiamo diciamo dal data journalism con un corso sull'introduzione al data journalism a dei corsi un po' più tech in particolare modo che puntano alla visualizzazione dei dati quindi data visualization e poi l'uso dei social media come fonte di dati eccetera lo dico anche perché in parte toccheremo anche questi argomenti oggi vi lascio a Carlo per le fonti allora buon poveriggio a tutti grazie di essere qui ci sono sette talk in contemporanea in questo momento quindi c'è una grande competizione io mi chiamo Andrea Nelson Mauro faccio parte di data ninja che è una team di data journalism un team data driven ci sono tantissime competenze del nostro team e abbiamo organizzato nel corso di questo festival del giornalismo una serie di momenti per cercare insomma di condividere le nostre competenze chi è già stato qui ieri e l'altro ieri sempre a questo orario post post prantium si post prantium ha già sentito questa il mio pippone diciamo così il primo giorno ci siamo occupati di raccolta analisi raccolta pulitura analisi dei dati il secondo giorno ieri ci siamo occupati di geodati oggi ci occupiamo di fonti di dati insieme a questi due signori occhialuti che adesso vi presento e domani ci sarà un talk insieme anche a Federico Bataloni e il gruppo Repubblica d'Espresso e Andrew De Vigal e insomma parleremo di solutions for constructive journalism e domenica ci sarà invece un altro workshop dedicato al tema dell'analisi dei dati social con Donata Columbro che si occupa diciamo anche di impatto dei dati social oggi ci occupiamo prevalentemente di questi due temi che io indico anche se non si vedono sullo schermo ma adesso magicamente il mio dito potentissimo ha fatto cambiare la vista dalle fonti statistiche e qui al tavolo ci sono Carlo Romagnoli che è un desk researcher da 15 anni si occupa di ricerca di base e questo è il motivo della sua calvizie mentre Alessi